vieni signore chiama la tua voce signore gesù ci raggiunge qui e ora esattamente dove siamo a prescindere da ciò che stiamo facendo e questa imprevedibilità è stupore e terrore abbiamo paura di non riconoscerti ma ci riempi il cuore sapere che nulla ti impedirà di raggiungerci grazie maestro instancabile vieni chiama tiraci fuori dall'abitudine proponici quel nuovo che può renderci nuovi amen preghiera di suor mariangela tassielli grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti